Campramarmi è un'azienda nata nel 1939, tre fratelli hanno dato via questa attività e poi con i vari passaggi generazionali siamo arrivati ad oggi dove ci sono ancora io che sono figlio dei vecchi fondatori dell'azienda e poi ci sono gli architetti Marco e Emanuele che portano avanti un discorso un pochino più nuovo, più fresco, l'attività cercando nuovi materiali, cercando prodotti che comunque sono nuovi rispetto ai vari materiali che abbiamo lavorato fino agli anni 2000, i gresi, i graniti, i marmi che erano materiali che comunque tuttora lavoriamo ma spostando più diciamo alla ricerca di questi nuovi prodotti. Negli anni 2000 ci siamo spostati in questo nuovo sito con nuovi macchinari, con nuovi prodotti, con nuove logistica e cercavamo appunto l'idea di cercare dei materiali nuovi che non fossero i soliti marmi, pietre e graniti ma affiancare dei materiali che erano novità. Nel 2004 si sentiva, cominciava a sentire questo prodotto che era un prodotto ottimo per le cucine, per l'edilizia e noi cercando un prodotto innovativo abbiamo cominciato a lavorare con la storia italiana. La collaborazione con la storia italiana ci permette di accontentare i clienti più esigenti dove ci richiedono novità, materiali nuovi, dove noi dobbiamo proporre comunque un qualcosa che non sia il materiale classico e la storia italiana ci aiuta faccio l'esempio della Cosmolite, i nostri clienti quindi possono affidarsi al nostro lavoro e all'aiuto che ci dà la storia italiana per proporre nuovi prodotti sempre all'avanguardia con le nuove esigenze. Grazie a tutti!